facci i vostri no no guarda sotto ci sono 6-7 metri d'acqua e ora ti tocca saltare per forza non c'hai speranza guarda che dopo ti sposto no ci stanno 6-7 metri d'acqua vai tranquillo vai tranquillo vai ah ma pesce dove hai buttare? ahahah dai va qui ahahah 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 ok ci sono fatto pure male ahahah ahahah vai ahahah 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 vai lo so ahahah non arriva mai ah vai via se mi vuoi lanciare la maschera la vengo io ah 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 a pesce via ahahah 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 ah 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 ah